Chiedo a Frank che è un po' tra virgolette incolpevole perché è sempre migliore in campo, senza di lui saremo veramente in ambascia ma gli chiedo cosa sta succedendo con queste tre sconfitte consecutive È frustrante ma come gruppo dobbiamo stare assieme, lo dobbiamo fare ci siamo allenati duro dopo questa sconfitta e ci stiamo preparando per la prossima partita al meglio delle nostre possibilità Tante volte abbiamo parlato con Francesco, con gli altri ospiti del fatto che sarebbe bello vedere ancora Bartley a Trieste Tutta la mia testa è focalizzata sul vincere le partite, sul giocare per Trieste adesso e su questa squadra Trieste sto benissimo ma di questo parleremo ovviamente alla fine della stagione Ti chiedo anche qual è il tuo rapporto con Trieste, come ti trovi? Come ti senti a fare con Trieste, la città, i fan? Come ti senti a fare? Mi piace questa città prima di tutto ma mi sento che questo place ha i migliori fan che ho avuto Non solo ci supportano in casa ma mi stupisce il fatto che si fanno anche delle trasferte importanti Scaffati una su tutti Averli lì con noi è veramente qualcosa di speciale Dice abbiamo i tifosi migliori di tutti Tutti ti conoscevano per essere un grande penetratore e ci hai mostrato altro Nel giro dell'andata non mi conoscevano, potevo andare più facilmente al ferro senza delle difese che chiudessero forte su di me Ovviamente si sono adattati, l'hanno scautizzato di conseguenza dice molto banalmente devo tirare più da fuori, devo tirare meglio da tre punti e ho lavorato su questo Questa è stata la partita d'andata contro la Virtus persa ma una partita importante per quello che ne è venuto fuori Bisogna avere la fiducia di poter vincere anche con la Virtus domenica All'andata è stata la mia miglior partita in trasferta sul campo della Virtus Bologna e abbiamo dimostrato comunque di potercela giocare con tutti Questa settimana deve essere una settimana di allenamenti intensi Dobbiamo stare assieme, giocare duro e prepararci al meglio per la sfida di domenica e con confidence in knowing that we can win this game Check All'andata è stata la mia miglior partita di domenica